Ancora disagio a Torre del Greco, soprattutto per quanto riguarda l'igiene urbano nelle periferie. Raccogliamo oggi la denuncia del signor Santoro, del sindacato Sunì. Torre del Greco lascia molto desiderare per quanto riguarda pulizia, diserbamento, disinfettazione. Abbiamo alcune zone in fase da ratti e da conigli. Quali zone? Particolarmente via l'Europa, là dove dovrebbe sorgere il campo sportivo, c'è dei roveri oltre 2-3 metri di altezza e non vengono fatte delle pulizie. Né pulizia, ripeto, tagliare e né tampocco fare diserbamento e disinfettazione. Avete reso noto all'amministrazione comunale queste problematiche? Sì, ho chiamato variate volte i funzionari, però niente da fare. Non ce lo fanno passare neppure per la testa. Ci sono anche altre zone oltre via l'Europa? C'è via Litorania, c'è via Sant'Antonio, via Lombardia, che sono delle case popolari, via San Gennarillo, che è completamente in abbandono lasciata. Quali sono i lavori necessari che vanno fatti in tutte queste zone? E' diserbamento la prima cosa, e poi disinfettazione, derattizzazione. La punta degli alberi, chiaramente, e non deve parlarne, perché si vede che gli alberi che devono essere putati, non vengono... tutti i cittadini li vedono queste cose. Per quanto riguarda invece la questione dei rifiuti in queste zone? Lascia molto desiderare, molte volte, veramente via l'Europa adesso pare che stiano facendo qualcosa, però molte volte, di domenica, si passa con dei rifiuti in mezzo alla strada, via nazionale, la stessa cosa. Come lei, anche altri cittadini si sono lamentati per questa situazione? Come no? Tutti i cittadini, e chi è che non lo vede? Come lei, anche altri cittadini, e chi è che non lo vede?